Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. La platea dei possibili beneficiari dei bonus da 200 euro si allarga. Inizialmente sembrava che questo bonus fosse destinato solo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Da poco è stato raggiunto un accordo nel Consiglio dei Ministri dove questo bonus sarà allargato anche ai percettori di RDC e anche ai collaboratori domestici. Inoltre sembra che questo bonus verrà erogato anche ai percettori di NASPI. Allora, se inizialmente sembrava che questo bonus fosse erogato direttamente nella busta paga dei dipendenti e nelle pensioni dei pensionati, sorge spontanea la domanda come potrà essere erogata la domanda ai beneficiari di RDC e ai collaboratori domestici. E questa domanda non è di poco conto poiché i lavoratori domestici non hanno un datore di lavoro che può essere considerato un vero sostituto d'imposta. Quindi è probabile che andremo incontro a delle domande da effettuare all'Inps. Per ciò che concerne i percettori di RDC abbiamo già visto un po' i pasticci che l'Inps ha generato anche con l'Assegno Unico Universale e quindi siamo in attesa appunto di capire come dovremo muoverci. È importante che vi iscriviate al canale e attiviate la campanella poiché ma in mano ci saranno le novità. Noi vi aggiorneremo tramite questo canale. Qualora sapremo effettivamente come verranno riconosciuti questi 200 euro e che tipo di domande eventualmente dovrebbero essere fatte dai percettori di RDC piuttosto che dai collaboratori domestici, vi aggiorneremo. Per tutte le domande scrivetemi qua nei commenti, cercherò di rispondere sempre a tutti. Auguro a tutti una buona giornata e vi mando un abbraccio.